Ci occorre un po' di luce questo pomeriggio. Ci occorre un po' di luce e vediamo di fare questa luce, luce Fiat Luz. Vabbè, non credo che sto... Perché no, c'è il sole dietro la schiena. Allora, siccome ieri questa live è piaciuta molto, allora voglio fare un'altra live parlando dello stesso argomento. Magari con più fortuna. E sai quanto dura la live di oggi? Che ne pensate? Dichiera Ferragni. Che dicono, dicono e dicono si sarebbe comprata dei followers per essere influencer. E che pensate? Che pensate degli influencers e degli youtubers che non pagano le tassi? Io dicevo, sì, no, sì, no, questa live la faccio, questa live non la faccio. Come ieri o l'altro ieri. E poi ho detto, salve, questa live la faccio. Che ne pensate? Io voglio avere i commenti di voi tutti, perché ieri ne ho parlato. E non vorrei che, diciamo, non ascoltare le vostre opinioni, perché alla fine stiamo qua proprio perché le vostre opinioni importano. Poi la luce LED non mi illumina. C'ho il sole dietro. Non vi scordiate che questa domenica ci sarà una premiere su questo canale. Questa domenica ci sarà una premiere. E se potete, supportatemi o adesso o nella premiere con i super chat, gli sticker, i super grazie e gli abbonamenti. YouTube mi dice ma perché non dice la gente di utilizzare questi strumenti di pagamento? Io lo faccio. Io lo faccio. Purtroppo so che a molti di voi la notificazione gli arriverà dopo mezz'ora. Quindi la prima mezz'ora serve per riscaldare la live. Salve, come va? Vediamo ancora nessuno ha scritto nella chat vediamo un po' no è peggio ancora peggio se entra luce da dietro se entra luce da dietro è ancora peggio ecco adesso sto meglio 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 dovrei cambiare ambiente Salve, come va? c'era una persona appena sono ritornato se n'è andato o andata Ida, Ida eh no so' cercato io pensavo di leggere uno ma mi fa piacere che comunque ieri è stata molto concorsa la live ieri a quest'ora o l'altro ieri l'altro ieri forse l'altro ieri perché ci mette 24 ore a poterti dare la possibilità di mettere i sottotitoli Hello Hola Ciao e scrivi in chat scrivi nella chat Write on the chat Now Stavo parlando Hola e scriva nella chat e scrivi scrivi nella chat mi hanno dato già un like stavo parlando che questo video vuole essere la continuazione questa live della live che ho fatto sono entrati hanno visto perché il bello delle live in verticale è che chiunque ne può trovare nei feed dei shorts ciao in questo modo magari non devi fare ore di live per avere ore di visualizzazioni io una volta facendo una live in verticale ho fatto mi sembra che è stato l'altro ieri ho fatto mezz'ora di live ho avuto un'ora e mezza di visualizzazioni tutti uscivano entravano uscivano entravano nessuno chatava hanno chatato soltanto ho avuto soltanto 80 chat però è perché appare nei feed e molti credono che è una è uno short invece è una live capito? hello forse non piace gravity power ciao siamo ritornati ti ricordi quella scorsa volta? sì sì l'altro ieri ciao gravity power come va? e mi ricordo mi ricordo sì io allora come adesso sta facendo merenda ti ricordi fratello quei vecchi tempi quei vecchi bei tempi eh sì mi ricordo era l'altro ieri ciao benny ciao come stai? a tutti voi buon fine settimana io ti ho scritto quella cosa però non me lo fa scrivere e che vuoi fare sono i filtri di youtube molto esigenti magari hanno pensato che tu facevi spam scrivilo nei commentari di un mio video quello che mi volevi dire se qua non te lo fa scrivere guarda la live precedente dove mi volevi commentare in chat scrivilo nei commentari magari anche lì lo filtra ma lì lo leggo comunque perché youtube mette filtri giustamente per proteggere i creators però tu scrivi sotto il sotto il video che adesso la live in verticale dell'altro ieri o di due giorni fa non so di tre giorni fa è un video e tu scrivi quello che mi hai scritto in chat che tutto quello che non è passato lo scrivi come commento e poi io vedo vedo perché di sicuro lo filtrerà pure lì ma tu quando hai iniziato la live? quando sono venuto io? no no è da dieci minuti questa live l'altra non lo so non me lo ricordo ma questa l'ho iniziata da dieci minuti la volevo iniziare mezz'ora prima dicevo sì, no, sì, no perché ne ho fatta una due giorni fa e invece mi devo abituare a fare una live al giorno perché una live al giorno leva il medico di torno vitamina allora adesso c'ho due persone collegate e ringrazio di essere qua con me e gli auguro buon fine settimana ma soprattutto gli chiedo che pensate degli youtubers che non pagano le tasse degli influencers e che pensate di Chiara Ferragni e del suo Balocco Gates del suo Pandoro Gates ma anche delle sue uova Gates perché ti dici sempre vitamina no non vitamina io prendo degli integratori alimentari in questo astuccio sempre la mattina c'ho un integratore che potrebbe essere per esempio queste vitamine qua che sono una gelatina siamo ancora una persona bene enigmatico siamo una persona perché dici siamo una persona sono una persona oppure sei tu con due account ah mi dici Benny mi dice ciao e poi anche tu ciao quindi devo presumere che stai da due dispositivi intervenendo siamo ancora una ah no una persona ancora una persona in live sì ma vedi io a volte avevo tre quattro persone scrivendo adesso due adesso due persone non so chi è la seconda forse sarà Benny ma io a volte avevo tre quattro cinque persone scrivendo in chat e nel cellulare leggevo una a volte leggo zero e ci sono decine di persone che intervengono e come dire come dire carissimo gravitez power e tu però non mi hai scritto che ne pensi se sei ancora in linea se non sei ingrassato sta in linea che ne pensi degli youtubers italiani che guadagnando milioni evadono milioni di tasse perché io posso capire uno che supera al minimo non imponibile ma guadagna qualche migliaio di euro all'anno che non è che ci fai molto sta gran cosa ma quando sono influencers che hanno milioni di euro perché per pagare evadere un milione di euro di tasse devono guadagnarne molti di più quello mi sembra cattivo capito cioè c'è il ladro di uova c'è il ladro di gallina spero che gli algoritmi non si imbipino per aver utilizzato quei termini c'è chi sottrae uova c'è chi sottrae galline ma c'è chi sottrae cassaforti pieni di gioielli allora quello è peggio le cose più belle in chat succedono quando io distrago l'attenzione o quando parlo io il molot perché per fartelo dire io il non ho capito proprio caro gravitas power donat schenerai ciao come stai fra ciao sto benissimo caro donat donat stavamo parlando degli youtubers italiani che vadano le tasse se ne pensi qualcosa scrivi lonchat e soprattutto del caso chiara ferragni e pandoro gates quel pandoro con lo zucchero impalpabile rosa anche uova di pasqua gates che ne pensi siamo in tre gravitas power benissimo infatti adesso si legge tre allora dovrei andare in un ambiente con più luce bella bottiglia sì no è un mate mate che ci si prende la gerba mate allora mi fa piacere che siete in due e come promesso ci spostiamo ci spostiamo in ambienti più luminescenti meno evanescenti mio fratello e mia sorella stanno ballando gravity power bellissimo e che ballano al ritmo di quale musica l'ho messo ti ho messo il like io eh ah grazie donut schenerai se poi intervieni con una super chat mi farebbe piacere vediamo un po' di aggiustare questo trespolo che non cazzi il cellulare adesso vado verso lì di più luminescenti chiudo il led eccomi qua che mi muovo mi muovo probabilmente si taglierà la comunicazione per un po' via virto perché mi muovo e c'è un altro router vediamo di ritornare sono ritornato sono ritornato con tutti voi e sono ritornato è un momento colutorio dopo la merenda siccome non ho mangiato molto non ho mangiato corruttorio è allora stavamo parlando care amiche d'amici che mi seguite adesso in tre degli youtubers che non pagano ma così sto un po in piedi stavamo parlando degli youtubers che non pagano no qua c'è un po effetto eco sto in una nicchia e io sono uno youtuber di nicchia come potete vedere sto in una nicchia e quindi sono uno youtuber peccato siamo ancora in uno e lo so però è così e la vita degli youtubers ci sono degli alti e dei bassi infatti ci sono degli youtubers che sono alti 2 metri 10 e ci sono degli youtubers che sono bassi 90 centimetri non arrivano al metro cioè non sono metro dotati non prendono la metropolitana giorgio scanu ciao buonasera come va allora cosa ne pensi tu giorgio canu anche oggi ripresento il tema della live di due giorni fa cioè che ne pensi degli youtubers italiani che hanno evasso un milione di euro probabilmente ne avranno guadagnati molti di più e che ne pensi di chiara ferragni e del suo supposto pandoro gates valocco gates e uova di pasqua gates tanto per trovare alcuni termini io ho 18 anni auguri quando li hai compiuti allora per me io poi voi partecipate nella chat ma per me una cosa è che diano la possibilità a chi produce denaro anche facendo materiale sul web di avere delle agevolazioni fiscali ma a meno che le tasse si aboliscano come in alcune parti del mondo o se ne facciano pagare pochissime e tutti dobbiamo pagare le tasse vabbè che c'è qualcuno che non sa di aver guadagnato tanto non ha ancora ritirato il denaro non bisogna cadere con tutto il peso della legge ma non ci sono scuse non ci sono attenuanti se le tasse si pagano si pagano tutti un'altra cosa che uno fa una società di produzione di video perché ha tanto successo e allora ha delle agevolazioni fiscali per poter continuare a produrre come le prodotte come succede per il cinema la televisione mi saluti mi chiamo antonio già da ferri me lo dice ciao antonio mi ricorda il saluto antonio di anni fa gravità power il 20 gennaio augurissimi anche se in ritardo io e il 26 gennaio peace and love caro giorgio scano anche a te e buon fine settimana buon fine settimana a tutti quelli che mi seguono buon fine settimana sera amico mio buon fine settimana ma allora le tue opinioni quali sono sugli youtubers che non pagano le tasse gravità power io faccio tutti i miei video perché mi mette solo il mio amico comunque scarica gravità a che cos'è gravità è un'applicazione è un un sito non so un'applicazione per cellulare per computer mai sentito gravità è tipo un'applicazione che ti permette di fare delle live dopo cercherò gravità se e mi incuriosisce che fa parte del tuo nome gravità power achille m ciao di che ti occupi ciao achille m e faccio principalmente dei videoblog come questi oggi stiamo continuando l'argomento della dell'altro ieri cioè sugli youtubers che non pagano le tasse e sul caso chiara ferragni il pandoro gate l'uovo di pasqua gate il balocco gate che ne pensate scrivete qua sotto che pensate degli youtubers che non pagano le tasse comunque questo canale ha più di 11 anni e quindi nel corso di 11 anni ho parlato di tantissime cose e se cercate su youtube canali santenchan troverete che ho avuto dei canali anche più vecchi e che li sto recuperando su temi specifici non vi anticipo nulla andateli a cercare su youtube cercate santenchan canali ne scoprirete tanti che io in questi mesi continuerò a fare degli short perché prima non c'erano gli short per gli altri canali ma anche delle live perché le live in verticale si vedono di più delle live in orizzontale e i miei video si vedono meno delle live in verticale speed demon 90 bro ciao bro e buon fine settimana che ne pensi degli youtubers che non pagano le tasse commenta qua in basso e che ne pensi del caso chiara ferragni della vicenda dico gravity power e io compro cose infatti io sto comprando già delle cose mo a grazie a gravitas bene ci farò un pensiero perché soldi servono a tutti ci farò un pensiero dovrò andare a cercare però mi mi sai dire di che si tratta me lo già dici d'anticipo naturalmente nulla di invertire in moneta virtuale io di quelle cose non mi intendo adesso siamo in tre mi fa piacere perché di solito non succedeva nelle mie live che persone nuove intervenissero ma da quando non soltanto assistono le live in verticale ma da quando youtube le mete nei feed degli shorts intervengono persone faccio amicizie con persone nuove persone nuove si iscrivono al mio canale io guardo il loro contenuto e mi iscrivo a mia volta non è un iscriviti che io no è una cosa che va avanti per un intercambio di idee però se a questa opportunità giorgio scano grazie del tuo consiglio che dai ai nuovi amici lasciare like grazie adesso siamo in 2 e allegria vorrei cambiare inquadratura a beneficio delle persone che poi guarderanno il video mi trema un po la mano perché insomma a tenere il palo se si non c'è un palo se si con lo stabilizzatore però voi vedete qua tutti i libri che ho ok senten cian si gravity power grazie ecco guardate tutti i libri che ho vedete guardate in da quando avevo 12 anni o meno leggo guardate qua tata guardate guardate quanti libri quanti libri quanti libri anche vhs quanti di voi hanno la mia età un poco meno sanno che cos'è il vhs guardate 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 quanti libri guardate quanti libri e quaderni ma non soltanto non soltanto anche giù questi sportelli sono tutti pieni di libri allora io c'ho un canale una rubrica letteraria una rubrica letteraria nella quale posso parlare di libri cioè un canale a parte non la rubrica letteraria di saint jean è inutile che vi stia aprire anche gli altri due sportelli e perché sono pieni come di libri come questi io potrei mettere un piccolo negozio di libri con tutti i miei libri se voi volete che in questo canale o nel canale in questo canale per meglio dire se voi volete che in questo canale ritorni a parlare di libri perché se no lo faccio faccio degli short nell'altro canale allora comprate un super grazie e chiedetemi di quale libro volete che io parli posso anche parlare di musica in questo canale ma allora guardate quanta quanta musica in un'altra o in un'altra camera ciò i cd una colonna di cd ma qua purtroppo questi non li posso più riprodurre perché mi si è rotto lo stereo che avevo comprato nuovo non è mai funzionato bene iniziava a fare ttttttt e poi si è fulminato tutte le cassette di musica capito comprate negli anni 80 70 90 è capito e qua ciò tutti i vhs e quindi se voi volete che io parli di musica voi comprate un super grazie mi chiedete un argomento e lo potete comprare c'è una sticella anche quando fate sul super grazie altro allora sotto un mio video comprate un super grazie regolate la sticella in altro e potete pagare meno di due euro o più di due euro potete arrivare anche a pagare più di 200 euro se volete e super grazie c'è un vantaggio con rispetto all'abbonamento l'abbonamento l'abbonamento è fisso ogni mese e poi magari si rinnova da solo il super grazie il super grazie invece lo paghi una volta sola quindi se tu mi vuoi se voi mi volete dare non so in un anno 120 euro però non vi volete vincolare un abbonamento basta che comprate un super grazie 120 euro pagate solo una volta invece con l'abbonamento dovete pagare 10 euro tutti i mesi stesso vale se se voi comprate un abbonamento a 2 euro è lo stesso che comprate un super grazie a 24 euro insomma no no a 14 euro capito adesso devo leggere un po di chat devo leggere un po di chat perché mi sembra giusto io insomma gravitas power ma ti ricordi quella porta che non hai detto che mi guardi il mio canale no non mi ricordo so che dario argento mi sembra affatto nessuno apre quella porta e che poi alla fine un bambino andava incontro a quella porta chissà che c'erano cose brutte sporche e cattive e molto puzzoni ma non mi ricordo non mi ricordo ricordamelo tu ma ti ricordi quella porta che non hai detto che mi guardi il mio canale non mi ricordo poi la frase non la riesco neanche a capire certo dice giorgio scanu pure io a bene io pieno di fumetti a benissimo ne conservo io due di jacoviti se volete che parli di jacoviti che io da giovane leggevo jacoviti tiramolla allora comprate un super grazie cioè supportate questo canale se mi sopportate mi dovete supportare altrimenti non si capisce gravity power ok poi spiegatemi questo spiegatemi questo fatto della porta porta portese che porta e la breccia di porta pia nella vecchia fattoria pia 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 o beh ridendo scherzando abbiamo fatto 36 minuti non ci posso credere poi adesso voglio ricominciare a leggere alcuni miei libri alcuni alcuni miei libri peccato che c'ho tutta la camera incassinata perché c'ho dei lavori in camera devo anche mettere la cera alla biblioteca ma c'ho paura perché perché ci sono i libri allora voglio rileggere le opere complete che lessi l'intintin di Edgar Allan Poe nel 2000 tutte le tè e quindi è un libro nuovo perché io i libri cerco di non rovinare il dorso del libro li apro appena è fantastico poi anche se mi piace di più love craft però fantastico aspetta che adesso lo sto rovinando per infilarlo dopo devo vedere se ho fatto le orecchiette e qua casca fantastico casca quaccio piero angela viaggio nel mondo del paranormale e lessi proprio 40 anni fa credo e dell'ottanta 78 e quando fece proprio un programma comunque voi potete trovare viaggio nel mondo del paranormale come trasmi dura sei ore e mezzo l'hanno ripreso dal televisore ed era un ciclo di trasmissioni che voleva smascherare i paranormalisti voleva smascherare i paranormalisti vediamo un po mancherà il segnale e vi avete detto mi sono mosso e in pratica mi sono mosso in pratica si è riconnessi e sconnesso adesso vediamo se c'è ancora spettatori pubblico è capito capito una persona è ranta con 46 secondi mi trema il polso ma devo alternare il braccio e niente sono andato a vedere suonava il telefono se non mi sbaglio poi non suona più sono quelle a volte chiamano che si sbagliano a volte invece bisogna stare a fare attenzione perché se non rispondi può succedere qualcosa qualcosa di brutto insomma poi vediamo di mettere qualche filtro oggi me lo sono scordato normale grande ecco ecco qua e ben filtro e ben filtro allora stiamo ormai ai 41 minuti e 53 secondi ho avuto solo tre like e c'è una persona che mi sta seguendo ma non so chi è comunque buon fine settimana buon venerdì e buon fine settimana good weekend good weekend buon fin di semana e scriva nella chat wright on the chat no niente se n'è andata questa persona io voglio fare ed un tiro vediamo se faccio almeno un'ora di live ho cambiato filtro e e quindi come dire sono contento sono ritornate due persone allora mi raccomando che ne pensate del caso degli youtubers che non pagano le tasse che ne pensate del caso chiara ferragni e di tutto quello che si è detto comunque buon fine settimana good weekend buon fin e se ma nato ora sito dos grazie per essere connessi infatti se ne sono andati ma una delle dei vantaggi delle live in verticale e che molte persone si rendono conto della tua live perché la trovano nei feed dei short quindi alla fine mi ritrovo se faccio un'ora un'ora e mezza con molte più persone che mi hanno seguito piuttosto che se facessi una live in orizzontale in questo youtube c'ha ragione capito in questo youtube c'ha ragione magari al momento entrano due o tre persone alla volta un domani se avrò più persone presenti entreranno di più ma con le live in verticale puoi farne anche una o due al giorno perché le trovano nei feed dei short allora buon fine settimana buon venerdì perché oggi è venerdì e le persone entrano escono proprio perché si trovano così nei feed degli short neanche nelle ricerche ma voi infatti ci sono molte persone che lasciano dei commenti in idiomi che io non riesco a leggere e che grazie al traduttore di youtube io a volte comprendo ciò che mi stanno scrivendo perché mi trovano la live in verticale nei feed degli short e gli short sono visti in tutto il mondo mi commentano in arabo mi commentano in cinese mi commentano in giapponese mi commentano in finlandese buon fine settimana enjoy a good weekend buon fin di semana entrano escono a volte tre secondi questo potrebbero migliorare la media della live però non importa non importa perché l'importante e partecipare non vincere che c'è da vincere e poi diventare famosi più persone ti guardano forse non piace questo effetto speciale forse con questo mi vedrete meglio più persone ti guardano è meglio re meglio re capito più persone ti guardano è meglio re adesso io devo guardare 67 per cento della batteria questo fine di settimana sarà discreto modesto come molti miei fine settimana non mi chiedete quello che farò perché non lo so ancora se vedrete poi questo video fino a questo punto quando già non sarà una live vi faccio i miei complimenti e di solito le live magari le seguono in tantissimi missi 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 ma poi a guardarle per intero in pochissimi simissimi anche se ci metti degli effetti dei filtri in questo caso molto divertentissimi simissimi simissimi allora ditemi un po voi fino a quando devo reggere il palo selfie perché e vediamo un po se c'è delle notificazioni no perché ho zittito o la buon fin di settimana buon fine di settimana hava google weekend buon venerdì happy free day sono entrate due persone contemporaneamente e contemporaneamente in due o tre secondi se ne sono usciti insieme io più di 50 minuti non faccio se se non riesco a parlare con nessuno in chat chiudi anzi voglio cambiare ambiente cambio cambio filtro e cambio ambiente ciao ciao tu che stai presente ciao tu che stai presente e vabbè il buongiorno si vede dal mattino come dice mike e io cambio e io cambio ambiente uno più luminoso allegria allegria cioè la cortina in testa ma perché dico io perché la cortina in testa allora 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 qua sì che si vede bene la live perché non sono venuto subito qua perché tanto mi guardavano anche prima adesso sto più comodo perché sto seduto allora ciao come va che ne pensi del caso ferragni che ne pensi degli youtubers che non pagano le tasse che ne pensi che ne pensi commenta qua sotto e lascia un like e buon fine settimana buon venerdì buon fin di settimana buon fin di settimana buon fin di settimana buon fin di settimana e niente ci sono le persone che entrano ci sono delle persone che escono sono delle persone che entrano ed escono e ritornano a entrare e ci sono le persone che escono soltanto senza neanche essere tratti no ma a parte si può vedere una parte della live credo nei film degli short senza entrare 8 mm cioè questi filtri servono a rovinare una buona scena quando c'è una buona illuminazione ea migliorarla quando c'è una cattiva illuminazione ciao lascia like a così si oscura se faccio così si oscura e ho deciso di fare una una live qua su youtube perché se la faccio in altri social cioè bisogna bisogna dare seguimento a gli argomenti dare la possibilità a tutti di seguirci io allarghere il palo se il fi soltanto e succede che poi non leggo non ho un occhio d'aquila poi non ho neanche un occhio da toro seduto poi non riesco a leggere la chat quando qualcuno scrive e hanno scritto molto oggi mi hanno detto ma ti ricordi quella a gravità power ciao gravità power ecco qua ecco qua che riappari gravità power grazie mille ma ancora non mi hai detto che ne pensi innanzitutto spiegami che cos'è quella porta aperta di non aprire ma ti ricordi quella porta che non hai detto che mi guardi il mio canale e non ho capito che cosa hai voluto dire gravità power poi cercherò che cos'è gravità avevo la batteria scarica a va bene hai caricato il cellulare mi raccomando non usare il cellulare mentre lo carichi magari hai il turbo power per caricarlo rapido però non lo che non utilizzare altrimenti lo rovini il cellulare te lo fumi veramente mi fa piacere che mi segui ma se è il caso lascialo a caricare finché a un 50 per cento ma non lo usare sotto carica lo sforzeresti molto no non ti preoccupare ma lo accendo a va bene sì magari un cellulare vecchio che tu tieni solo per fare sto giochino di raggio vediamo raggio come io non vedo nessun raggio sogno mi piace sogno io non so se dicono i siciliani sogno io ma allora stai sognando che sogno son desto sei tu ha ormai io ho parlato degli argomenti del titolo del video soltanto che le persone non sono state proclivi a commentare molto le tene forse l'effetto così e ti piace questo effetto effetto sogno a che non so perché dicono che nel sogno tutto si deve vede che si sfuma io non ho mai sognato così perché lo chiamano effetto sogno io non non ho mai sognato così buon fine settimana a vago weekend buon fin di semana che rida se amica se amico mi seguono molti soprattutto perché metto i sottotitoli ultimamente metto sottotitoli in pochi idiomi ma mi seguono soprattutto dalla latino america e quindi grazie grazie a tutte e tutti voi di seguirmi poi è bello fare le live col cellulare buon weekend buon weekend gravity power e grazie di avermi seguito se poi condividi questa live se poi condividi questo video quando già non sarà più una live e continua a seguirmi guarda anche qualche mio vecchio video che sono molto interessanti e quelli fatti dal 2013 al 2017 mi chiamo santen chan gravity power così come tu ti chiami gravity power e logico e come mi chiamo cioè ho scelto questo ma no ma guarda che non ti sto mentendo e mi chiamo veramente santen perché se antenne il mio nome di rifugio buddista e sono andato in un tempio cinese a prendere il rifugio nel buddismo e poi una larga storia perché io sin da adolescente ho letto molti libri sul buddismo visto documentari quindi io sono registrato in un templo di taiwan come santen hanno anche il mio nome italiano ma appunto mi metto come santen chan perché perché voglio voglio farmi conoscere con il mio nome buddista cinese così come tu ti metti come gravità power io dico sempre graviti sant'antonio ma tu ma tu hai mai fatto il calcetto io sì però ti volevo dire gravitas è una app per fare tutto quello che vuoi poi cancellare tutto puoi cancellare le live però poi comprare pure a va bene ma cancellare in che senso cancellare le live io lo posso fare pure da youtube se voglio cancellare o mettere in occulto una mia live a che mi serve gravitas power per cancellare una live non so forse ti ho capito male io sant'antonio ha ti chiami sant'antonio ma tu ma tu hai mai fatto il calcetto no non gioco a calcetto io sì bravo lo sport e salutare ciao gravitas power ciao come stai io da quando il medico mi ha detto che lo sport e salutare saluto moltissimo ciao buon pomeriggio a tutti buon fine settimana salve perché lo sport e salutare però ti volevo dire gravitas è una app per fare tutto quello che vuoi puoi cancellare tutto puoi cancellare le live però poi comprare pure a gravitas power che ti posso bannare tipo io se ti banno certo dalla dalla mia live posso bannare anch'io come fecero a quel cantante a cui rifiutarono molti concerti eduardo bannato poi mi informo su gravitas power comunque non c'è bisogno di un'applicazione per bannare non so siamo ai 50 minuti di live due persone che sono durate fino adesso adesso una e io ringrazio il nostro amico gravitas power per tutti i bei suggerimenti questa applicazione non so se si chiama gravitas o gravitas power stiamo facendo un sacco di pubblicità dovrebbe trovarsi nella google play google play store o nella app store quindi ho solo tre like significa che le persone alle quali è piaciuta questa live sono tre a meno che non si attualizzi e poi c'è più like comunque di solito che ti posso bannare tipo io se ti banno no scherzavo gravitas ti fa vedere tutte le mappe di gravitas allora gravitas è un videogioco le mappe mi devo informare mi hai aperto questa curiosità e che non so che cos'è buon fine settimana buon fin di semana enjoy a good weekend e scrivete qua nella chat oltre a dare un like per supportarmi che pensate degli youtubers che non pagano le tasse se fanno bene o male e che pensate del caso di chiara ferragni che poi si è pentita ha pianto e tutto il resto che pensate del caso di chiara ferragni e che pensate del pandoro gates io fra poco dovrò tagliare vediamo hanno suonato no in una stanza buia in una stanza buia ci si si riprende meglio allora togliamo i filtri perché sto adesso al buio cambiamo allora no fanno male che cosa fanno male i filtri se i filtri delle sigarette beh certo l'effetto l'effetto speciale a volte distorsiona molto e servono a volte a rovinare i video questo è vero però ecco mi sono voluto sedere qua ma ecco tu caro amico gravitas power accende un po tutte le luci hai ragione hai ragione anzi cambio proprio vado qua invece qua ciò delle luci accese faccio delle luci accese come vedi e se non le lascio accese ovunque dovunque e comunque e allora no ecco ho già fatto un'ora tre minuti e 42 secondi e sono molto contento vediamo che ora è ancora posso stare in live allora ancora nessuno durante tutta questa live che ho avuto tante visite visite mi ha detto che ne pensa del caso chiara ferragni che ne pensa del balocco gate che ne pensa dello scandalo con le uova perché poi sono andati a indagare retroattivamente che ne pensano che ne pensate degli influencers che si comprano le iscrizioni i followers e mi piace i commenti per essere pagati di più dalle dalle fabbriche e che ne pensate degli youtubers che addirittura non pagano le tasse se vuoi quando la finisci la live può scaricarlo gravitas contaci ma tu ancora non mi hai risposto alla ragione di essere di questa live caro gravitas power che ho capito che ti piace gravitas power forse ne sei il programmatore perché ne hai il nome enzo ita fanno bene e sì perché le tasse l'italia del paese con più tasse al mondo e che più alte però purtroppo a meno che non cambi le leggi o a meno che non prendi una residenza fiscale in un altro paese con tasse con un regime di tasse più basso allora devi prendere la residenza da un'altra parte ti devi comprare o affittare una casa e dimostrare di vivere abbastanza tempo magari in svizzera come per avere lì una produzione video di youtube e poi ritorni in italia però a meno che non fai queste cose che ti costano e quindi da una parte non paghi le tasse in italia ma non le evadi le paghi in svizzera che paghi 10 10 per cento il 5 per cento invece in italia paghi il 50 al 60 per cento ma a meno che non fai così tutto in regola che te va ne vai addirittura a vivere fuori dall'italia se vivi milioni di euro ti conviene se vai in nevada negli stati uniti paghi pochissime tasse però è tutto più caro anche se non paghi li va nei prodotti e allora sei un evasore fiscale cioè stai facendo un crimine quindi le tasse si può giustificare ma non si possono evadere io l'ho fatta quella app ha benissimo per quello che ti chiami gravità power mi sembrava strano e che me la proponi me la proponi me la proponi e lei fatta tu quella ho capito gravità power ciao ci vediamo la batteria del telefono e scarica la sto mettendo in carica sì ciao mi raccomando non continuare tu che fai le applicazioni lo dovresti sapere se continua a utilizzare il cellulare mentre si carica ti dura poco magari sarà un cellulare vecchissimo magari ma se un gamma alta nuovo te lo fumi te lo fumi in pipa te lo fumi effetti fai una canna con quel cellulare un sigaro lo bruci proprio allora grazie di essere partecipato così tanto tempo d'altra parte io vi devo lasciare in questo preciso momento allora ciao ciao mi raccomando fatti bravi un'ora e sette minuti e mezzo e devo lasciarvi devo lasciarvi devo lasciarvi forse taglierò questa parte finale ciao 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 mi raccomando fatti bravi fatti buoni la prossima volta utilizzerò questo palo selfie ciao 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 Grazie a tutti. 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 Purtroppo il telefono mi ha distratto, ma vedo che siete sempre in due. Vedo che siete sempre in due, un momento che adesso ritorno tra voi. Gravita power mi ha salutato. Adesso siete in due e sono contento. Sono contento che non ho interrotto la live perché in questo modo io ho delle visualizzazioni in più che magari chissà quante ce ne sono state, però purtroppo mi sono dovuto assentare. Se avete visto la lenzuola del mio letto per qualche minuto. Me ne è rammarico perché avrei voluto continuare a parlare con tutte e tutti voi, poi oggi è venerdì, domani è sabato, inizia per molti il fine settimana oggi, questo pomeriggio. Per molti altri inizia domani e per molti altri ancora non inizia mai perché lavorano 7 giorni su 7 e per qualcuno il fine settimana inizia da lunedì e finisce il lunedì perché non lavorano mai e molti studiano. Quindi, allora, grazie di essere in due adesso, hello, enjoy a good weekend, buon fine settimana, che pensano del caso Chiara Ferragni e degli youtuber che non pagano le tasse. Prima sono riuscito a che Enzo Itta mi commentasse qualcosa riguardo gli youtubers che non pagano le tasse. E quindi, mi raccomando, tutti e tutti voi, già sono a 1 ora e 13 minuti, Giorgio Scanu, ciao, sei ritornato carissimo amico mio, e mi raccomando, che ne pensi degli youtubers che non pagano le tasse? Che ne pensi di tutto Lambaradam del caso Chiara Ferragni che si è separata da Fedez, eccetera eccetera? Gravity power! Chi ha vinto il telefono? Ah, ti ricordi che ho fatto quel, quello short dicendo che avrei, che in realtà l'audio non è mio, non è la mia voce, l'audio è di un canale di tecnologia che loro sempre presentano dei cellulari e ne sorteggiano uno, e quindi sorteggiavano il Samsung Galaxy S24 Ultra, prima sorteggiavano le S23, e io ho utilizzato l'audio per per attirare spettatori, purtroppo non sono stati così tanto numerosi, ma io li avrei fatto vincere, a chi si abbona, io gli regalo un cellulare, io glielo regalo, però si deve abbonare con 200 euro al mese perché io possa pagare tutte le spese e gli invio un cellulare, io se ti abboni dopo 12 mesi di abbonamento e ti mando con custodia e tutto, ti mando questo Nokia Asha 302, ti mando, oppure ti mando e guarda un mio short che ho fatto, un iPro F183, ho fatto uno short, cercalo nel mio canale, e quindi, e quindi come dire, e quindi sì, adesso è arrivato il momento che devo finire la live, però se volete che io sorteggi un cellulare, vi dovete abbonare, o dovete dare un super like, non so, 500 euro, 1000 euro, non deve essere una cosa, una cosa da niente, insomma, have a good weekend, enjoy a good weekend, buon fin di semana, buon fine settimana, adesso siete in quattro, purtroppo dovrò smettere, adesso siete in zero, dovrò smettere la live, per fortuna che ho continuato a farla quando il telefono piangeva, piange il telefono, buon fine settimana, compratevi un super grazie per aiutarmi e abbonatevi al canale, adesso ciao, non so fino a quanti di voi guarderanno questa live quando sarà video, fino a questo punto, io ti volevo dire, questo colore è molto lunga, gravi, gravis, è un mondo di gravità, perché ogni livello è difficile, ah bene, moltissime grazie, ciao, grazie di seguirmi, ciao, è capito, ciao, un'ora, 16 minuti, 55 secondi, facciamo arrivare a un'ora e 17, ecco qua, tre persone che mi seguono, è difficile tagliare adesso, come va e sto leggendo ma che ti dico in un gioccio che tu avvieno vino ma che forse vi